Cambiamo ancora argomento, fare verde torna domani a Termoli con il mare d'inverno, una operazione di volontariato per la salvaguardia e il monitoraggio dei litorali. Anche sulla spiaggia di Termoli domani l'iniziativa mare d'inverno promossa da fare verde per la salvaguardia e il monitoraggio dei litorali italiani. L'appuntamento giunto alla sua 27esima edizione è sul litorale nord e vedrà la partecipazione anche dei volontari di Ambiente Basso Molise del Comitato Articolo 21 di Petacciato e dei tanti migranti e ospiti di diversi centri di accoglienza che partecipano costantemente alle attività di fare verde nell'ambito del progetto Azione e Integrazione. Un modo per riscoprire il fascino del mare d'inverno e passare una mattinata diversa per tutelare l'ambiente e la salvaguardia del territorio. Tra i messaggi costantemente lanciati, quello di ridurre i consumi e sprechi coinvolgendo cittadini ed amministrazioni pubbliche in percorsi mirati alla riduzione a monte della produzione dei rifiuti. Necessario quindi partire dalle scelte di acquisto dei singoli consumatori fino ad arrivare ad efficaci provvedimenti legislativi volti ad arginare l'insostenibile produzione di futuri rifiuti, con particolare attenzione agli imballaggi. Del resto, dalle operazioni di pulizia degli scorsi anni, rilevata l'enorme invadenza della plastica dagli imballaggi appunto alle bottiglie, sacchetti e tappi, fino a rasoi, cotonfiocche ed accendini. C'è poi la presenza di scarti del settore etico, come cassette di polisterolo e reti in plastica restituite dal mare.